Qualcuno che mi ha accorto domanda risposta. Allora, fatevi vivi, fatevi... ecco, il signore il signore è venuto da Napoli, lei che prima si è venuto da Napoli, professore, perché ha detto che nel circondario ha visto la nostra locandina. Poco pubblicizzata. Eh, perché dobbiamo essere pochi, siamo limitati. Ecco, ti do il microfono. Buonasera, professore. Primo, volevo ringraziarla, perché da quando l'ho conosciuta dal punto di vista intellettuale mi ha aperto da anni di pensiero che pensavo non avviene del meno. Quindi la invito a scrivere tanto, tanto perché ho quasi esaurito tutti gli argomenti che lei fa.